Noi pensiamo la nostra vita come un continuo sacrificio per conquistare quella pienezza, quella gioia piena che tante volte ci sfugge. Invece la pete cristiana ci annuncia alto, c'è Cristo una sola volta, ha donato tutto se stesso e ci ha donato quella pienezza di vita. In fondo il Vangelo ci annuncia proprio questo, il seme va dovunque, dappertutto, anche lì dove non ci sono le condizioni per portare frutto e questo significa che non esiste angolo della terra, non esiste cuore umano, non esiste peccato in cui la grazia di Dio porta la sua redenzione. Dio non si stanca mai di noi, Dio spreca il suo amore per noi perché sa che la sua redenzione è più potente del nostro peccato. Questo è l'annuncio che il Signore ci dona. sempre tramite la sua parola. Buona missione.